Domanda. Tutti i fenomeni cosiddetti paranormali non possono essere frutto dell'inconscio? Risposta. Potrebbero essere solo frutto dell'inconscio se durante gli esperimenti non esistessero inequivocabili episodi di telepatia, chiaroveggenza, preveggenza e una notevole fenomenologia fisica. Domanda. Alcuni ricercatori chiamano personalità secondarie quelle che agirebbero attraverso i medium mentre i medium professionisti le chiamano controlli. Risposta. Il modo di chiamarle non cambia la natura di queste personalità e non vi aiuta a comprenderle. Domanda. Alcune entità dicono che non sono affatto personalità secondarie e alcuni medium dicono che non si sentono controllati da nessuno ma talvolta sentono come se il loro sé fosse espanso. Risposta. Infatti questi fenomeni vi appaiono altamente instabili perché non ubbidiscono alla logica della vostra mente ma alla logica del sentire. Per questo non si credono ma si sentono.